cari amatissimi amici di fuori onda eccomi pronto a una nuova recensione di un ottimo film dico ottimo film e non mi sbilancio perché capolavoro si fa presto a dire grandissimo maestro d'accordo si parliamo del film il peccato di andrei con cialoschi che ha come principale merito di avere come produttore esecutivo il mio caro carissimo amico mauro calevi è un produttore che lavora seriamente è un produttore esecutivo è attenzione non è che fa muove finanziamenti non mi fate dire cose che non capisco comunque mauro ci sa fare è bravo si vede lavorano tutti in serenità anche con cialoschi che da parte sua ha fatto un ottimo film sulla vita di michelangelo ora veniamo a questo film con cialoschi e russo si capisce andrei con cialoschi lo capisce un bambino che è russo è un ottimo regista nel senso che lì in russia per esempio se tu non sai fare il regista lo capiscono no non è che ti fanno filmare un comico così che guarda i sederi delle persone e dicono ecco quello è un regista no quello casomai è uno che filma un comico no non c'entra con la regia andrei con cialoschi è un bravissimo regista nel senso che capisce che la regia consiste nel mettere insieme tutta una serie di competenze di arti di mestiere che confluiscono in una precisa unità di misura che è l'inquadratura mentre in teatro c'è la scena nel cinema c'è l'inquadratura cosa che recentemente ha detto anche francis coppola parlando del living cinema ma di questo ce ne parleremo un'altra volta quindi se l'unità di misura di questa arte che si chiama cinema è l'inquadratura l'inquadratura bisogna saperla fare e cancialoschi la sa fare capisce che non può essere un inquadratura piatta che ci sono delle tecniche da conoscere che ci sono delle linee all'interno del quadrato o del rettangolo dell'inquadratura e queste linee che siano esse il bordo di un campo su cui si muove un carro trainato da due buoi mentre un'altra linea di cipressi va in secondo piano nel senso opposto e mentre una strada si dipana lungo le colline e in ultimissimo piano ci sono le alpi o l'appennino italiano ecco per dire nella inquadratura c'è un linguaggio per cui non c'è bisogno che te usi il drone le cose te butti sott'acqua se tu non hai capito la unità di misura di questo campo infinito che è l'inquadratura e che nei secoli passati era la pittura era il quadro quadro inquadratura per cui non a caso poi stanley kubrick quando fa barry lindon si cita tutti i pittori inglesi del 1700 perché appunto anche stanley kubrick che è un vero grandissimo regista capiva capisce si vede da ogni da ogni momento dei suoi film che il linguaggio del cinema si svolge attraverso una serie di inquadrature ora questo è un vero piacere per gli occhi è un piacere perché c'è all'interno di questa inquadratura il colore per esempio il colore deve essere una cosa non casuale cioè deve essere figlio di una serie di scelte può essere come lo usa al motovar cioè dirompente forte di colori primari il rosso il giallo il blu oppure può essere ispirato ai colori del rinascimento italiano del risorgimento del rinascimento scusate italiano quindi con questi cieli con il verde col coi grigi coi bianchi e infatti cialoschi lo fa usa questa gamma cromatica che si riferisce a quel periodo quindi nel linguaggio di con cialoschi è un piacere guardare questo film guardare questo film apprezzare l'occhio immediatamente questo è bello magari anche di non non sa queste cose ma magari fateci caso dice questo è un bellissimo vi queste immagini sono tutte belle questa in questa storia avviene ora poi l'inquadratura si compone sia per alto sia per profondità sia per sezioni dell'inquadratura vero si può mettere un gruppo di operai che tirano per esempio un masso in un angolo in secondo piano in primissimo piano giovane che li osserva in ultimo piano ancora qualcuno che arriva a grida allarme non lo so ecco cerchiamo di capirci queste cose sono state raccontate anche in un bellissimo libro che io consiglio a tutti i giovani cineasti e che andre un libro di andre basa che si intitola cosa è il cinema che io raccomando tutti a tutti caldamente di leggere perché spiega come è fatta questa benedetta inquadratura e che cosa all'interno di questa inquadratura la distingue dal teatro filmato che non è cinema ora si può fare cinema filmando del teatro filmandolo nel linguaggio non della scena ma delle inquadrature e infatti e infatti è citato nel libro di basa piccole volpi con protagonista bette davis che è un capolavoro consiglio a tutti di guardarlo orson wells anche aveva capito queste cose ma comunque non divaghiamo il problema di questo film non lo dico secondo me è un bellissimo film racconta michelangelo da un punto di vista originale forse racconta un michelangelo in cui con cialoschi proietta se stesso più che il vero michelangelo sì certo tutti conosciamo la pressione del potere sugli artisti ma la conoscono bene anche in russia michelangelo era un'anima tormentata non è raccontata la sua vita passionale sessuale mentre non ci si fa scrupolo di raccontare altre cose ugualmente scabrose e questo è forse un limite proprio della drammaturgia è un michelangelo tribolato ossessionato dall'idea di dante ossessionato anche dal denaro è un uomo un uomo con le sue debolezze che comunque di fronte alle pressioni dure del potere cede ma comunque è un film certamente da vedere di grandissima bellezza di grandissimo respiro c'è questa tendenza potremmo dire antonioni anna se non fosse che antonioni però agli attori ci stava molto attento di vedere l'attore quasi come un pezzo della scenografia non si può parlare né di desica né di antonioni perché desica prendeva l'uomo della strada è vero ma lo dirigeva e in mano a desica l'uomo della strada diventava un interprete senza senza se e senza ma senza sconti in mano a desica quell'uomo della strada diventava un attore da cui lui tirava fuori con prepotenza una performance intensissima riguardo antonioni è vero in vari scritti antonio ha detto un attore per me come un il muro che gli sta dietro cioè una questione di colori di spazi di volumetrie del modo in cui si muove quell'attore nello spazio però poi dopo c'era jack nicholson e monica vittima insomma non è era comunque qualcosa che era gestita con sapienza questo per dire che c'è un protagonista strepitoso non molti uomini della strada molto ben diretti non sempre altri attori tranne uno strepitoso orso maria guerrini strepitoso dovreste vedere questo film soltanto per come orso maria guerrini interpreta il ruolo del duca di malaspina proprietario delle cave di marmo di carrara geniale un'interpretazione straordinaria qui gli diamo un bel lotto a questo film non perdetevelo è in sei sale a roma sarà distribuito in 120 sale in italia guardatevi questo film riflettete su questa domanda ma che cosa è alla fine un film